www.feyyaz.tv 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 Dai, dai, ti non ci devi fermare. Dai, Albertoni, su, su. Dai. Dai, l'ultimo, dai, dai. Dai, dai, in piedi. Dai, in piedi. Vado a casa. Amor, ma è la prima volta. Ma che vado via, amor? Prima di te, prima di te. Ce l'hai fatta a fare tutte? Non a fare tutte. Ce l'hai fatta tutte? Non a fare tutte. No, pensi di essere l'unica? Sì. Amor, ma che sentire? Prima di dire non ce la faccio. Ascolto, guarda me, guarda me. Ehi, ehi, guarda me. Prima di dire non ce la faccio. Deve arrivare in fondo. Tranquillo. Io sono fiera di te. A casa. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Proprio ora che hai dimostrato fosse capace, perché? Perché? Non te la senti più? Ma chi non l'ha fatto nessuno di noi? Non l'ha fatto nessuno? Non ce l'ha fatto nessuno. No. Vieni, vieni con me. Vieni. No, no, no. Vieni con me. Vieni con me. Vieni con me. Vieni con me. Quante volte l'hai fatto mai nella tua vita? E voilà. Oggi abbiamo capito che hai quel limite lì. Oggi. Adesso. Domani già non ci sarà più. Stai dicendo di voler essere andare? Sì. Ha detto che non l'ha fatto. Ma nessuno di noi l'ha fatto. Figa. Ma il primo giorno, daga. Ci si arriva con l'allenamento e poi anche con la tecnica. Perché tutti quelli che sono passati sono passati solo perché hanno applicato la tecnica, non perché erano forti. Sì, ma che devi non farci. Non lo vedi dopo un giorno. Dai, devi stare un po' qua. Poi devi stare un po' qua. Poi devi dire, certo, non ce la fai e molli. Però il primo giorno no, dai. Ti ha la volontà. C'è la tenacia. Va benissimo. Eh, non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Non voglio vederla piangere. Non è il caso. Ricorda? Babu me l'ha detto a Marti che, insomma, la vita militare non è semplice. Ce la voglio fare, certo. Non mi arrendo. Cercherò di arrivare fino alla fine.